Con la presentazione delle liste per l'Assemblea nazionale e quella regionale, collegate rispettivamente ai tre aspiranti segretari nazionali e ai tre regionali, è partita ufficialmente la corsa per le primarie del PD che si svolgeranno il prossimo 3 marzo. Come è noto, sono tre i candidati alla segretaria nazionale, Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giacchetti, e tre per la segretaria regionale, ovvero Vittorino Facciolla, sostenuto da due liste, uniti per Vittorino Facciolla e democratici per Vittorino Facciolla, Stefano Buono con la lista Ricominciamo e Michele Durante con la lista Piazza Grande di Durante e Zingaretti che porta lo stesso simbolo utilizzato da Nicola Zingaretti. I tre candidati alla segretaria regionale sono tutti collegati alla mozione Zingaretti, sostenuta da due liste composte da quattro dirigenti ciascuna per i candidati all'Assemblea nazionale, una di Vittorino Facciolla e l'altra di Michele Durante, mentre quella di Stefano Buono, sempre collegato a Zingaretti, è stata esclusa per mancanza della delega. Una lista a testa, invece, per Maurizio Martina e Roberto Giacchetti. Dunque, gli schieramenti di partenza si presentano con quattro liste per eleggere i 60 componenti dell'Assemblea regionale e quattro liste per eleggere i quattro rappresentanti dell'Assemblea nazionale. Questi i nomi. Piazza Grande per Zingaretti Durante, Laura Venitelli, Luciano Sposato, Costanza Carriero e Giose Trivisonno, Molise per Zingaretti Facciolla, Carlo Veneziale, Bibiana Chierchia, Alfredo Marini e Francesca Primiano, Martina Segretario, Nicola Messere, Maria Concetta Chimisso, Pietro Maio e Cinzia Di Cristofaro. Giacchetti ha candidato, infine, Marco Sabetta, Rita Di Salvo e Andrea Gagliardi. Conferme novità e strani intrecci nelle liste dei 60 candidati all'Assemblea regionale. In particolare, con Vittorino Facciolla, collegato a Zingaretti, ci sono Antonio Dalete, Michela Fanelli, Zelinda Tiberio, madre dell'ex assessore del comune di Sernia, Marco Amendola, Lorenzo Goia, presidente della provincia, e la capolista Maria Concetta Chimisso, vice sindaco di Termoli, la quale, però, è candidata nella lista nazionale a sostegno di Maurizio Martina. E giallo, invece, sulla candidatura, sempre nella lista di Facciolla, del neosegretario della Federazione PD di Campobasso, Andrea Vertolo, è eletto all'unanimità per effetti della sua dichiarazione di neutralità in nome dell'unità del partito. Vertolo, invece, è stato candidato nella lista di Facciolla, ma ha chiesto di essere depennato. Sulla vicenda si pronuncerà la commissione di garanzia. Nella lista regionale a sostegno di Michela Durante ci sono, tra gli altri, Alessandra Salvatore, Ovidio Bontempo, Andrea Battista, figlio del sindaco di Campobasso, Pierpaolo Nagni, Roberto Ruta, nonché il segretario di Federazione di Sernia e dei circoli più importanti di Campobasso, Isernia e Termoli. Infine, nella lista che sostiene Stefano Buono, sono candidati anche l'avvocato termolese Simone Coscia e Gilda Antonelli, omonima della compagna di Paolo Frattura.